Cos'è una girante in aspirazione ricavata dal pieno e perché dovrebbe essere interessante? Le giranti navina sono molto conosciute e utilizzate da tanti, ma nessuno ottiene tutto il loro vero potenziale. Guarda questo video e cambieranno le idee che hai su come un componente sia così indispensabile per le turbine e come possa essere migliorato al massimo. Uno dei motivi principali per cui le giranti ricavate al pieno sono diventate così popolari è che offrono ai produttori di turbo una flessibilità superiore nel portare sul mercato nuovi modelli di compressori, in particolare nelle piccole tirature. Ma la negatività è che il processo di colatura è costoso e richiede diverso tempo. In confronto i progetti in CNC possono essere prodotti in piccole tirature molto rapidamente. Questo è fondamentale nel processo di produttivazione, consentendo ai produttori di testare un'ampia gamma di giranti e selezionare il disegno migliore per ogni obiettivo. Non sono qui per combattere le giranti ricavate dal pieno, perché questa tecnologia ha portato ad alcuni enormi miglioramenti nelle prestazioni del turbo negli ultimi cinque anni, ma vale la pena capire cosa possono offrire e da dove viene il loro enorme potenziale. E' importante sapere cosa si sta acquistando e il motivo. Se esistirai una girante in alluminio con una ricavata dal pieno dal design identico e ti aspetti di raccogliere 100 cavalli, preparati che è una fortissima delusione. Infatti non è come vengono prodotte a generare maggiori portate, ma il disegno, il peso, il numero delle pale e molto altro. Quindi non basta seguire solo i dogmi dettati dai forum o dalle chiacchiere nei bar, ma deve essere eseguito uno studio preciso e metodico, ma soprattutto per evitare di bruciare soldi in delusioni preannunciate. Quindi prima di scegliere dove andare e come preparare il tuo turbo, affidati a dei tecnici e uno staff competente che possa capire le tue reali esigenze e vedere se il servizio può essere o meno la soluzione ideale per quello che stai cercando, ma soprattutto per le tue necessità. Se vuoi un consulente che si siede di fianco a te per capire quale sia la soluzione migliore, inserisci il tuo contatto direttamente nei commenti ed un mio consulente ti contatterà per capire se il mio servizio può aiutarti o meno rispetto alle tue esigenze. Ti aspetto al prossimo video tecnico.